Volevi vedere la faccia di Chesnot X e finalmente uscirò alla faccia, che non è questa, che è quella fiera di Zeb, ma è Volevi No, io non ho Lì in fondo c'è il letto di mia sorella, che non so se si vedrà nell'inquadratura, ma ha i poster di Favij Allora, voi dovete capire il mio disagio in tutto questo E ora, aro, 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 e Ciao ciao a tutti, ragazzi, pezzo di merda Quest'oggi siamo merda Finalmente Ma sono al tempo stesso emozionato Aiutatemi, io spero che mi abbiate aiutato Perché c'è stato un video in cui ho chiesto Favij Queste domande sono domande Io ogni tanto devo soffrire il naso perché sono Favij Tremendamente Vorrei anche scusarmi per questa voce di cazzo Cazzo dovuto al mal di cazzo Direi di iniziare sus Anche perché c'è molto da fare, ci sono tantissime domande di cazzo Un tappo di merda sorcio schifoso La prima domanda è da un animale domestico Che ci dice, a godomanda Come ti chiami? Mario Quanti anni hai? Mario Generazione preferita? Mario Generazione peggiore? Mario Pokémon peggiore? Come si chiama quel coso? Aspetta, ehm... Mario Fa schifo, cazzo Pokémon preferito di settima generazione? Zeb Quanti peli hai nel culo? Due Passiamo alla domanda di RowletTM Che ci chiede Quali liceo stai facendo? Mario Greninja 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 Insieme ad un Pokémon straordinario Che sarebbe Greninja Ma porca Madonna 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 Te ne devi andare a fanculo Madonna Cos'è? Morfosintonia No No, io rosico però Madonna mi dà fastidio sta cosa Eh sì Eh sì E c'è Snout? E c'è Snout? Eh sì E sì Giustamente Greninja Ehm... 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 Ci chiede Hai mai pensato di lasciare YouTube? No Perché YouTube da quando l'ho iniziato Non ha saputo che regalarmi Zeb Ti piace Greninja? Ma porca Ma... Madonna Te ne devi andare a fanculo Lurigon ci dice Hashtag Hagodomanda Hai mai pensato di raggiungere questo traguardo? Voglio Omega Flygon Domanda più importante Quanti peli nel culo hai? 23 Odio chi odia C'è Snout X Ahia Ahia Hai mai rischiato la vita? Mmm Oh Abbassa quella voce da gallina Penso di no Anzi no Penso di no Anzi no No Vero Penso di no Davanti a scuola Un Greninja Una macchina mi è passata sopra un piede Ehm... Non lo dimenticherò mai Porca puttana Luigi Lagana Hai mai avuto problemi alla prostata? Perché? Perché? Ma porca Madonna Madonna Te ne devi andare a fanculo Quale palestra ti ha fatto smadonare di più in una randomizer? Ehm... Smadonnare di più in una randomizer? No nessuna Devo dire che fino ad adesso non ho smadonato su nessuno Real Ancora? Con questa attrazione erotta i coglioni Solo Grazie a tutti.